ciao fragoline e ciao fragolini allora sì sono vestiti uguale perché tutti i video che state vedendo che sono tre video di questi gratte vinci li sto registrando tutti nello stesso giorno perché non c'è voglia di cambiare la maglietta non c'è voglia diciamo di fare ogni giorno diverso il video per cui chi se ne frega l'importante è vedere il video e anche i gratte vinci se vinciamo o non vinciamo questa volta come vedete nell'antiprima ho preso turista per 10 anni e 7 e mezzo io ho speso 3 euro ovviamente si sono sempre gli stessi gratte vinci ma cercherò di non spendere tanto perché va bene tutto ma non è che divento diciamo ricca se vinco qualcosa o sinceramente non vinco neanche 10 mila euro devi avere proprio una botta di culo per vincerli e niente per cui ho preso sempre il gratte vinci che sono gli stessi ma a poco prezzo in poche parole allora vediamo se questa volta vinciamo come l'altra volta o sono perdenti però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina seguitemi su instagram lasciatemi un like se vi piace questa tipologia di video e un commentino qua sotto detto questo prima che il video lo faccio durare l'eternità io vi invito di guardarlo tutto e di non andare avanti magari perché sennò non è divertente questo diciamo vedere i video così e andiamo a vedere vediamo se se vinciamo qualcosa per cui buona visione allora iniziamo dal turista per 10 anni vediamo se vinciamo qualcosa allora numeri i nostri numeri sono 14 44 e 31 il bonus lo vediamo dopo qua non c'è niente restiamo bene così almeno siamo sicuri andiamo qua sotto e abbiamo un 35 che abbiamo il 31 niente poi un 36 infatti i numeri sono un po altini per cui non ce l'abbiamo un 33 e ma che cavolo c'è il 31 e non abbiamo il 33 qua il 29 partono dal 1000 e sarà un po' difficile qui niente qui abbiamo un 43 e che sfiga abbiamo qua il 44 qui abbiamo un 16 ma abbiamo un 14 qui un 46 proprio sfiga 100% un 34 neanche e un 21 diciamo che c'è andato male vediamo il bonus se ci porta fortuna il bonus è 25 che giustamente non ce l'abbiamo vabbè direi che questo è perdente comunque si sapeva già andiamo con questo allora le mie carte qua abbiamo una regina poi facciamo così qua abbiamo un 3 allora regina vuol dire 5 e 5 e mezzo dobbiamo fare il premio è di 10.000 se ciao vediamo il banco ma sarà complicate qua abbiamo un 6 e qua abbiamo 6 e mezzo 6 e mezzo a posto invece il bonus 20 euro abbiamo un mezzo questo è perdente perché i nostri sono meno per cui direi che questo gratte vinci non ci ha portato fortuna a parte che i numeri erano altini perché 10.000 euro e 20 euro c'è deve andare proprio di culo comunque sto grattando con 10 centesimi e non mi hanno portato fortuna questi gratte vinci vabbè meglio di non si può avere tutto beh se abbiamo vinto nell'altro video ovviamente è normale che non siamo tanto fortunati però vabbè questo è andato un po male almeno alla prossima spero che sia diciamo buona e questi gratte vinci sono perdenti non abbiamo vinto neanche un euro mi dispiace perché appunto se io vinco o che ne so un euro due euro tre euro ricuperò ricupererò qualche gratta e vinci invece così non vincendo niente giustamente i soldi poi li devi mettere per cui è così quindi vabbè direi che questo video si conclude qua fatemi sapere se vi è piaciuto lo stesso anche se non ho vinto e fatemi sapere se volete qualche gratte vinci in particolare che io gratti qua sotto nei commenti lo dico in tutti i video dei gratte vinci ma nessuno mi risponde per cui non lo so questa è l'ultima volta che lo dico se volete dirmi quale gratte vince volete che io gratto bene se no faccio di testa mia perché non ho mai una risposta quando lo dico nei video però detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi iscrivetevi al canale e seguitemi su instagram vi aspetto detto questo ciao e al prossimo video